Abbiamo finito di scaricare, adesso dobbiamo solo cercare di uscire fuori da qua e poi uscire fuori da Firenze 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 Sì Gli specchi dello Scania o le forche dell'omuletto Agua la scelta Anche qui sto Volkswagen messo lì in posa Alla comoda Con questo bancale qua Alla comoda 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.